Ciao a tutti, oggi andremo a fare una piccola ghirlandina che potrete attaccare dove volete. Cosa ci servirà? Ci serviranno dei tappi di sughero, magari anche rotti, che non sapete cosa farvene, e dobbiamo fare 10 tondini così, che poi saranno in questo modo, e ne andremo a fare un bel cerchiolino, così, e quindi adesso andiamo a incollare per bene questi cerchiolini, che poi ho detto 10, ma potete farlo dalla grandezza che volete, e quindi adesso andiamo a incollarli. Incollati avremo questo cerchiolino. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un chiodino, questo chiodino, scegliamo dove metterlo, come vogliamo, la nostra ghirlandina, e lo spingiamo dentro, e con un goccino di attac lo andiamo a boiccare, e finiamo di incastrarlo per bene. Così. Poi, prendiamo un anellino, e una cordicina, e li andiamo a far passare nella ghirlandina, in modo che poi possiamo appenderlo dove vogliamo. Così. Adesso io prendo del colore verde e giallo, che ho già messo qui, li vado a mischiare, in questo modo, e vado a picchiettare su tutta la ghirlanda, ma poco poco, proprio lasciando poco verde, e facendo vedere il colore dei tappi di sughero. Così. Guardate che carino. Ora, ci servirà un bel fiocco. Io l'ho fatto così, con il panno linci, ho fatto questo fiocco, rosso, con le stelline oro, e lo vado ad incollare alla base della mia ghirlandina. metto la colla, e lo metto in fondo. e voilà. Guardate com'è carina. Mi piace davvero tanto, ed è super facile da fare. Potete attaccarla sull'alberello, potete attaccarla fuori dalla porta, un po' dove volete, io l'ho attaccato sulla porta. ok, niente, questo è stato un mini tutorial, facilissimo, provate a farlo anche voi, provate a mandarmi anche qualche foto, così vedo come vi è uscito. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando tanti bacini, ciao! Ciao!